Manca ancora più di un mese a Natale, ma l'inverno sta arrivando. Un primo vero blocco di aria fredda proveniente dall'Artico sta irrompendo in queste ore sulla Toscana e la nostra provincia. Addio alla piacevole estate di San Martino. Le temperature, peraltro, ce ne siamo accorti, si sono già abbassate in modo brusco, con cali anche di 10 gradi. La neve è caduta seppur non copiosa oltre i mille metri. Ma non è tutto, si prevedono anche temporali raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. Insomma, il primo ruggito dell'inverno è servito. Una segnalazione che poi diventa anche un monito per gli automobilisti. La previsione delle prime gelate notturne in pianura, attese a partire dal weekend, con valori localmente anche a meno 1-2 gradi nelle aree interne. E ricordiamo l'obbligo di avere montato pneumatici invernali o l'obbligo di catene a bordo in atto dal 15 novembre scorso. Il calo delle temperature è atteso invece già in queste ore su gran parte d'Italia e anche sulla nostra provincia. La neve, come dicevamo, torna ad imbiancare l'appennino fino alle quote medie, ma tratti anche sotto i mille metri, su quello centrale. Rinforzeranno anche i venti con bora e grecale. In definitiva dovremo confrontarci, anche se solo per qualche giorno, con un clima tipicamente invernale. Ma tutto sommato, visto l'andazzo generale, forse è quello che preoccupa di meno.